bentrovati ad una nuova lezione del corso di montaggio video con adobe premiere 2019 sono fabio ambrosi e proseguiamo le lezioni che piano piano vi porteranno ad usare alla perfezione il software di montaggio video più usato al mondo molti mi hanno scritto chiedendomi ama il corso continua si si il corso continua non vi preoccupate piano piano il settimana dopo settimana andremo avanti ed impareremo sempre più nel dettaglio come usare premiere 2019 non temete venite piuttosto a trovarmi spesso sul sito internet www.fabioambrosi.it perché oltre al corso di montaggio video con premiere sto preparando altri tutorial magari per chi già premiere lo sa usare e vuole sapere qualcosina in più rispetto alle basi che stiamo vedendo con questo corso ho intenzione di fare anche qualche tutorial su adobe audition un software per lavorare con l'audio e sto sviluppando il pensiero di fare qualche tutorial anche su after effect visto che molti continuamente me lo me lo domandano quindi venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it iscrivetevi mettete un like alla mia pagina facebook fabio ambrosi e soprattutto iscrivetevi al mio canale youtube per restare sempre aggiornati sui nuovi corsi nuovi tutorial e nuove lezioni di questo stesso corso eccoci tornati in adobe premiere 2019 quest'oggi vedremo come inserire un in e un out all'interno delle nostre clip vale a dire come scegliere una parte di un contenuto multimediale da utilizzare poi nei nostri filmati perché perché se io giro un video con la mia telecamerina o con il cellulare come ho fatto in questo caso non tutto il video magari mi è utile per raccontare la storia che la storia che voglio raccontare magari voglio selezionare solo una piccola parte di questa intera clip ok in questo caso specifico io faccio il gesto di mettere la mano davanti alla chitarra ok e poi dopo un po la porto via ecco io probabilmente non voglio tutta questa azione magari ne voglio solo una piccola parte per esempio questo momento qui come si fa innanzitutto ricordatevi che per mandare in play con premiere potete utilizzare la barra spaziatrice quindi selezionate il pannello in cui è presente il contenuto che volete mandare in play premete la barra spaziatrice e voilà il video va in play però esistono dei tasti che sono molto più pratici per mandare in avanti indietro o per fermare il nostro video che sono tre lettere la lettera k la lettera j e la lettera l che cosa fanno la lettera l manda in avanti potete fare la prova o le poi la lettera k mette in pausa quindi se io mando in play e poi premo la lettera k il video si fermerà guardate lettera l lettera k il video si ferma fantastico però c'è un altro tasto importante il tasto subito vicino la lettera k il tasto j cosa potrà fare mai secondo voi la lettera j manderà indietro il nostro video attenzione sto mandando indietro il video qui come fosse un video registratore non sto dicendo a premiere che deve montare il mio video all'indietro è solo una previsualizzazione ok lettera l per mandare in play lettera j per mandare indietro lettera k per fermare non è finita qui se premete due volte la lettera l o la lettera j manderete avanti il video o indietro il video al doppio della velocità facciamo un esempio premo due volte il tasto l vedete che il video viene visualizzato più velocemente stessa cosa con il tasto j premo due volte il tasto j e posso in altre parole andare avanti e indietro più rapidamente più volte premi il tasto j o il tasto l più velocemente il video andrà avanti o indietro scelto un punto da cui iniziare a prendere il video premo il tasto i di imola che sta per in ok per esempio ipotizziamo che io voglio iniziare il mio video da qui mi sto muovendo con i tastini che abbiamo visto prima premo la lettera i di imola e dico premiere premiere voglio prendere il video a partire da due minuti e venti secondi vedete che il tempo della clip sempre indicato qui in basso a sinistra bene premiere mi ha inserito un marker che potete vedere qui presente in questa piccola timeline che sostanzialmente mi informa che lui prenderà il video a partire da questo punto stessa cosa per inserire un out ovvero magari non voglio tutto il video da qui fino alla fine lo voglio fino a un certo punto quindi con il tasto l mando in play k per fermare e poi per dire a premiere che voglio prendere il video fino a qui premo il tasto o sulla tastiera ho inserito un out quindi cosa ho fatto ho inserito un in e ho inserito un out in altre parole non andrò a prendere tutta la clip ma prenderò solo una sua piccola parte questo è molto importante perché magari fate un'intervista ad una persona e magari avete registrato anche due minuti prima di iniziare a parlare ecco quei due minuti non serve che li portate in timeline e poi li tagliate potete già direttamente schipparli tagliarli qui in fase di previsualizzazione perfetto come si fanno a rimuovere questi in e questi out ipotizziamo che io mi sia sbagliato e voglia prendere qualche frame in più di questo video o inserite un nuovo out premendo il tasto o della tastiera nuovamente vedete ogni volta che premo il tasto o sto delimitando nuovamente il punto di out se sta cosa vale per l'in se voglio prendere un differente punto di attacco basta premere la i sulla tastiera e automaticamente premier a seconda del punto in cui mi trovo inserisce un nuovo marker ma posso anche muovermi con queste piccole manigliette che compaiono quando ci posizioniamo con il mouse sopra ai marker vedete che il mouse ha cambiato forma diventa una sorta di maniglia ok rossa io cliccando su questa maniglia rossa posso allungare o restringere il punto di out oppure stessa cosa il punto di in questo è un processo molto importante perché ci permette di selezionare a priori il nostro materiale e se io volessi cancellare l'in e l'out perché non mi interessa più prendere solo una parte ma se io volessi riprendere tutta la clip bene intanto potete sempre mettere marchiare con un in o con un out tutta la clip quindi a questo punto i marker o ci sono non ci sono sono praticamente la stessa cosa ma per rimuovere l'in e l'out completamente potete tranquillamente cliccare con il tasto destro sopra al monitor di previsualizzazione e scegliere l'opzione cancella attacco se volete cancellare il punto di in cancella stacco se volete rimuovere il punto di out oppure cancella attacco stacco come in questo caso per praticamente pulire completamente la piccola timeline di previsualizzazione nella prossima lezione vedremo come portare questo video direttamente dentro la nostra timeline iscrivetevi al mio canale youtube per restare sempre aggiornati sulle prossime uscite di nuovi tutorial e venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it ciao e alla prossima